Allora, sono le 14.45 del 10 febbraio 2012 e ci troviamo accompagnati da una squadra della Croce Verde di Civitella Roveto per recarci a Morino. Ci troviamo sulla Statale 82, come potete vedere le precipitazioni nevose continuano e le difficoltà sono tante ma attualmente la situazione è sotto controllo. Ci troviamo con il fuoristrada della Croce Verde, stiamo accompagnando un'unità mobile di pronto soccorso dei volontari venuti dal Veneto tramite il circuito dell'Ampas nazionale per un soccorso in località Morino. Come potete vedere queste sono le condizioni della Statale 82 in questo momento? Ieri sera ad Avezzano sono arrivati circa 29 volontari dell'Ampas nazionale, di cui 19 dalla Lombardia e 10 dalla Regione Veneto sono arrivati con due ambulanze e altri mezzi di pronto soccorso per dare un aiuto, una collaborazione ai volontari già presenti sul territorio rovetano. I volontari questa mattina sono stati accompagnati nella base sede centrale della Croce Verde di Civitella Roveto per un primo briefing di organizzazione e adesso sono stati smistati presso i vari centri della Valle Roveto.